salve a tutti benvenuti in un nuovo video benvenuti in un nuovo tappavideo insomma siamo alle battute finali per quanto riguarda la fusione di python fusione che termina a 3.000 controversie come solo la plarium sa fare e qual è l'oggetto della discordia ovviamente l'evento di corsa all'evocazione torneo che storicamente richiede 3.500 punti per andare a prendere il campione raro di turno nel caso di una fusione tradizionale o i frammenti nel caso di una fusione a frammenti esattamente come accade per python ma qui la plarium ha deciso di spostare i limiti un po più in là e quindi non sono più sufficienti le mie sette schegge ma ho bisogno di aprirne ben 10 se voglio ottenere qualcosa e 10 cominciano ad essere un po tante so di molti giocatori che erano lì pronti per andare a prendere python con gli ultimi 20 frammenti di questo evento invece dovranno aspettare di prendere quelli del drago di fare il miglioramento manufatti insomma di giocare l'arena che ha aperto da poco per ottenere quello che gli serve magari fermarsi ai 2150 punti che sono comunque più del solito normalmente la prima tranche di frammenti si attesta intorno ai 1700 come in questo caso l'accelerazione di esperienza no invece qui ci vuole quella scheggia in più ancora una volta se voglio prendere meno questi però tante è un problema sì se gli standard della plarium restano questi per tutte le fusioni a venire perché in questa particolare fusione noi adesso abbiamo a disposizione un per 10 di tutto rispetto per il quale molti giocatori potrebbero voler aprire qualcosa ok ma non è che è sempre così ci sono dei per 10 interessanti per quanto il per 10 in generale sia abbastanza una scammata di suo ma almeno i campioni proposti sono interessanti mentre ci sono altre occasioni in cui il per 10 fa proprio schifo signori cioè si apre perché si deve aprire perché devo prendere i frammenti o il campione raro altrimenti non aprirei affatto e se unisco le due cose devo aprire tante schegge in un evento di cui non mi importa niente allora è chiaro che il bestemmiometro comincia a salire di grado però dai avremo modo di lamentarci in futuro se questi dovessero rimanere gli standard della plarium invece in questo caso come già detto il per 10 spacca signori quindi se siete nella categoria insomma che intende aprire sono contento per voi perché è una buona occasione io invece ho deciso di lasciar stare più che altro perché i campioni che vedete li ho praticamente tutti con la sola eccezione di di elba che mi interessa fino a un certo punto è un ottimo campione adesso ne parleremo ma per il mio account non è così determinante è più determinante python e ho deciso di puntare tutto su di lui però se la trovate vi esce tanta tanta roba adesso ne parleremo appunto io quindi per me stesso ho deciso di avvalermi della possibilità di vincere un torneo in questo caso il ragno e ottenere quindi questi venti frammenti in modo diverso ma se vi è necessario aprire per forza perché non potete completare la fusione in nessun altro modo almeno state aprendo per qualcosa di utile andiamo con ordine quindi rio campione del vuoto leggendario strepitoso davvero ottima unica nel suo genere grazie alla sua passiva è come se avesse un set immunità addosso ma non contenta farà rimbalzare questi debuff addosso a chi ha cercato di mettermeli e questo vale anche per i debuff di controllo che è una cosa unica nel suo genere normalmente io non posso liberarmi o meglio posso liberarmi ma non posso sparare addosso ai miei avversari uno stordimento un sonno un congelamento invece lei può e questo la rende ancora più pericolosa questa destrezza qui poi si abbina perfettamente sia la sua capacità di cleansare quindi io incasso il colpo mi libero di tutti i debuff e vado anche a pulire tutto il resto del team oltre a curarlo veramente tanto con questa destrezza oppure ho la possibilità se magari tutto il resto del team era già coperto e non ha preso stordimenti non ha preso niente di strano per esempio da un egemone posso andare a bloccare un avversario particolarmente pericoloso grazie a questa destrezza che mette una pletora di debuff ma soprattutto mette lo stordimento quindi c'è un duplice utilizzo che posso fare in arena lei però è fortissima dappertutto si utilizza tanto dal ragno abissale si utilizza tantissimo dall'idra si può utilizzare volendo anche dal clan boss per quanto sia la cosa più sbagliata nel mio punto di vista lei è un campione d'arena nel 99 per cento dei casi non 90 per cento dei casi 10 per cento invece nel pve anche perché la build che generalmente utilizzo per l'arena può essere valida anche negli altri contesti comunque campione davvero ottimo se non l'avete un paio di schegge void lei se le merita davvero quindi bene che ci sia a questo per 10 poi passiamo a duchessa che avete visto anche in copertina duchessa è ride shadow legends praticamente perché ogni volta che la plarium rilascia un contenuto di qualche sorta il primo campione che ti viene in mente è duchessa la plarium rilascia l'autore sventura duchessa la plarium rilascia idra duchessa la plarium rilascia il san david duchessa quindi qualsiasi cosa la plarium decida di rilasciare duchessa è sempre in cima alla lista di quello che vuoi perché fa tutte cose buone mette velo ad area riduce i danni di un botto se i campioni hanno il velo ha la possibilità di rianimare tutti e di mettere il velo hai la possibilità di indirizzare i colpi avversari perché lei mette il velo su tutti ma non a se stessa quindi molto 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 versatile e potente non voglio dire miglior campione di ride in assoluto ma è nella top 3 signori è nella top 3 poi abbiamo brogni altro campione strepitoso campione di una fusione campione che ha segnato un racco di record ne abbiamo parlato tante volte l'unica cosa che mi permetto di aggiungere che magari alcuni di voi potrebbero non sapere è che grazie alla sua passiva lui ha la possibilità di attivare zolfo anche in maniera indiretta quindi i miei avversari attaccano il team si fanno male per colpa della passiva sugli scudi questo colpo può attivare zolfo quindi possono subire zolfo perché hanno attaccato ad area i nostri campioni e quindi è molto 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 interessante questa cosa oltretutto la precisione non è la statistica per forza più importante di questo campione ma ci fa comunque bene perché possiamo bruciare con la sua skill primaria zolfo sappiamo che oltre al debuff punizione va anche ad aumentare le nostre statistiche per la precisione e ci sta comunque anche se ad esse statistiche completamente inutili per il nostro brogni resta una delle migliori benedizioni se non la migliore benedizione in assoluto per lui proprio grazie a questa passiva se non avete brogni signori qualche scheggetta lui se la merita al mille per cento in qualsiasi fase di gioco voi siate e poi c'è elba campione nuovo simile per certi aspetti un po' che c'è a quella filosofia la di campioni tipo assistenza che rianima alla possibilità di cleansare però alla possibilità di coprire tutti quanti con un blocco debuff e di aumentare anche la velocità questa è una cosa relativamente buona per noi perché in alcuni team per esempio da clan boss io ho bisogno che questa cosa non avvenga io non posso permettermi un campione che riduce che aumenta la velocità scusate mentre in altri si potrebbe essere uno dei pochi veri sostituti per ereditiera nel team con demita perché ereditiera in qualche modo cleanse riduce di un turno la durata di tutti i debuff che in quel caso significa cleansare perché ereditiera va ad aumentare la velocità e lei aumenta la velocità quindi insomma può essere una valida alternativa anche lei lo fa ogni tre turni può essere può fare può fare però non è l'unica cosa che fa perché lei va anche a rianimare ogni tre turni oltretutto ci sono campioni l'unico campione che mi viene in mente migliore di lei a ressare in termini di turni è raglin stiamo parlando di un leggendario del vuoto ogni tre turni è davvero notevole in più momento anche attacco e difesa tanta tanta roba quindi davvero un ottimo campione la sua aura è la solita che stanno dando un po a tanti campioni leggendari un po come un contentino tanti anche laura ci piace no però c'è e quindi ce la prendiamo passando invece agli epici ovviamente mangia uomini non ha bisogno di presentazioni è davvero tanta tanta roba per i clan boss si possono creare un sacco di team interessanti è vero che adesso c'è il team adesso da un po c'è il team con demita con ereditiera e tutto il resto della baracca però per realizzare un batiter io ho bisogno di due mangia uomini e di una guarda tormenti il resto ed il cercatore va bene e poi il dps se voglio fare una cosa ancora più semplice il caro vecchio budget funziona ancora se devo accontentarmi di un mangia uomini di una guarda tormenti quindi sicuramente un team magari meno ambizioso ma molto più semplice da costruire rispetto a mit fu rispetto mit aires e così via quindi non è che bisogna schifare mangia uomini perché adesso ci sono altre soluzioni assolutamente no resta un campione molto molto valido e se volete costruirvi un team definitivo per i clan boss perché non approfittare di questa situazione parlando invece dei campioni epici di affinità ritengo che sentinella sia la più interessante dei tre molto molto vecchia scuola ragazza se non si vede quasi più ormai nei team intanto perché sono più efficienti i team in ammazzabili c'è poco da fare e poi perché il mondo è cambiato insomma da quando è nata sentinella tombale il mondo è cambiato tanto ha la possibilità assolutamente di mettere blocco debuff per due turni ogni quattro turni questo la rende valida per creare una rotazione in quattro terzi contro il clan boss non è una novità ha la possibilità anche di ridurre l'attacco che in un team convenzionale va benissimo ha la possibilità di azzerare un danno eventuale a qualcuno che in un team convenzionale ancora una volta va benissimo ha un'ottima aura che dal clan boss va benissimo insomma nel complesso resta un valido campione semplicemente il meta del clan boss è cambiato nel corso del tempo e ora si utilizzano soluzioni un po' più avanzate ma se non avete alternative resta un validissimo campione mago del mausoleo anche lui è valido ha la possibilità di aumentare il tasso e di aumentare la difesa di mettere anche lui in blocco debuff però per un turno soltanto che va bene ma non benissimo perché io di solito soprattutto in un utilizzo del clan boss ho bisogno di questo debuff per un turno però nella sua cripta è molto molto potente questa cosa perché la possibilità di prevenire lo stordimento e la strizza che il boss finale di questa cripta può fare e rendere tutto molto molto più semplice quindi uno dei migliori candidati per affrontare quella fase in tutto il resto è un guaritore barra supporter dignitoso che può fare il suo e quargan quargan è strano signori è stranissimo ha questa skill qui no questa scusate questa che può andare a mettere vero perfetto l'aumento attacco ad alcuni ad altri invece mette blocco debuff e l'aumento difesa molto difficile da utilizzare l'ho visto in qualche team strambo per il sand devil recentemente se non è sempre stato un pollaccio quindi un pollaccio un cabione che non si utilizza non voglio dire pollaccio perché tutto quello che fa non è malvagio però c'è di meglio quindi diciamo che è proprio l'ultimissima scelta per voi io penso che finirà in cantina se lo trovate comunque vabbè passando invece ai video per la prossima settimana allora per i VOD lunedì abbiamo una top 10 da dividere fra me e buon urco tra i migliori nuker cominciano ad essere tantini quindi facciamo una top 5 più 5 insomma ecco martedì come al solito gli short il nuovo format vi piace siamo mega contenti meno male a noi ci diverte un botto farli quindi continuate a supportarci anche attraverso gli short mercoledì invece parleremo di degli starter o meglio che fine fanno gli starter quando noi utilizziamo più si lasciano lì a marcire per sempre poverini o forse gli si può trovare una qualche sorta di utilizzo e ne parleremo giovedì invece un altro short venerdì la seconda parte di 10 consigli per voi su come iniziare a bomba su ride avevamo promesso e ogni fa che avremmo fatto una seconda parte ecco a voi la seconda parte mentre sabato ci sarà il consueto tappa video per quanto riguarda le live invece martedì builderemo insieme Jamarsa e molto probabilmente questo video qui diventerà anche un'analisi bradipa sotto forma di riassunto sotto forma di estratto live mentre giovedì parleremo dell'auto seller di RSL helper cominceremo insomma ad attrezzarlo per farlo funzionare mentre sabato ci sarà la consueta road to chronem io signori per questa settimana ho detto tutto adesso sta a voi vi ascolterò per le vostre lamentele a proposito di queste schegge in più necessarie però voglio anche la vostra super 10 se c'è qualche campione che avete trovato so che a qualcuno è già andata bene quindi buon per voi mi raccomando iscrivetevi al canale accendete la campanella perché se fate questo le vostre schegge sacre varranno doppio quindi sarà più semplice completare l'evento ci tengo poi a ricordarvi l'appuntamento delle live l'abbiamo già detto però è un buon modo insomma per riuscire a trasmettervi più contenuti perché c'è più tempo per farlo con questo in mente quindi questo è bradipo furioso seate furiosi ma rimanete bradipi grazie a tutti